Quaranta minuti, quindi davvero poco, ovviamente tre minuti in più, tre minuti in più il recupero che verrà concesso. Radonic intanto, Arsenievic che scatta, tu per tu con il portiere, il passaggio per Zivkovic, è la rete, è la rete del raddoppio. Che è stato a questa squadra, davvero questo giocatore velocissimo e davvero anche generoso, possiamo dire che in due occasioni, in tutte e due i gol, prima passato al numero sette a Radonic per la prima rete e ora a Furco. Volella ha tirato e poi c'è stata questa deviazione, non sappiamo se Taviani l'ha presa prima o dopo che superasse la linea di porta. Intanto Zivkovic, l'altra retezione da parte del Belgrado, dentro per Pantic contro il pallone. Per il suo compagno sulla sinistra il dribbling e poi messo il pallone vicino per Zivkovic che tocca e mette in rete il gol dell'1-0. Prima vera conclusione in porta e quindi è riuscito a siglare Andri. Il suo compagno sulla sinistra il dribbling e poi messo il pallone vicino per Zivkovic che tocca e mette in rete il gol dell'1-0. Prima vera conclusione in porta e quindi è riuscito a siglare Andri. Zivkovic. Zivkovic. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.